Piazza Dai, vicino alle scale Oh, chi ha sparato? Noi no A me stanno sparando Dove? Da dove? Dalla piazza, dalla piazza, dai Sembrava una pistola Sei sicuro che non era in una casa? Io ho sentito dalla piazza, però voi Sei la della casa Eh, lo zombie corre verso la piazza Verso le tende Ok, è spaesato, non so dove andare Ok, lo vedo Sul tetto del Del palazzo del congresso Sono due Uno è ferito Sono quelli là Un altro è morto Quello ferito è entrato dentro È al secondo piano Erano visti in maniera diversa Non erano quelli di prima Comunque quello col CR è quello che ha sparato a te Faccio fuoco Un altro è il loro Ancora Dimmi Bisogna controllare la porta Da che tà sulla piazza Non devi uscire Eh, da qui non so se da pari Eh, a posto Da dovevo cambiare di posizione Faccio il, faccio il Faccio il Vaffanculo Beh io copro la porta di rcr Sto sparando gli zombie A piano terra vero Foto roba Mi tira una granata dentro Controlla l'ingresso Vedo uno di Sono io all'angolo No no ho visto una cosa che correva veloce Mi sembra corresce un po' troppo veloce Vabbè vado a lanciare una granata Occhio eh Non so se c'è un'altra uscita laterale Vabbè io le vedo tutte qui Ovviamente lo zombie viene da me Giusto no? L'altro viene da me Come ho visto da Due chilometri Dai vieni qua coglione Chi ha nell'occhio il tetto Mauro? Sì sì Tetto non è un problema Dove c'è no la porta Dove? Non ho visto nessuno Senti rumori per caso? No Vado nel palazzo di fronte Anzi vado su San Balcatu Granata Porco Dio che botta C'era una porta aperta L'ho tirata dentro Mi sposa? Mi sposa Dai Ho anche due flash Mi metto su A controllare il tetto Dai vieni qua Sorrivo Sorrivo pure io eh Andiamo insieme Io entro di qua e tu di là No 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 Prima lancio la flash Poi tu entri Già uno è entrato Eh sì Guarda la L'avevo lanciato la granata Non c'è niente Aspetta Ci prendo la flash C'hai? Oh 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 Cosa? Cazzo Niente Ok Porco Dio Mettitelo nel culo Quello zaino Guarda quella flash Cazzo la granata C'è entrata da Dio Libero Libero Anche ho le scale Libero Piano di porte E' chiuso Occhio Occhio qua Mira Mira qua Apro la porta Qua ci sono zombie morti Qua c'è un'altra porta Libero Ho preso da lì C'è un cadavere Davanti a te Ha sloccato Ha sloccato Ha sloccato Sono io Sto scendo sul petto Sì sì Vai vai Qua c'è uno Morte Quello è il secondo Lui era vestito Da pompiere Giallo Con un elmetto Questo non arm Ha sloccato L'eroe Ha sloccato O è uscito Da un'uscita Porco dio E' da me E' da me Dove dove Sulla collina Cazzo Stavo che andare sul tetto Cazzo Ha fatto No 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 Non mi ha sparato per bene Però Non c'è un po' su cui posso scavalcare qua Non mi prendi Non mi prendi C'è una mira di merda C'è C'è un po' che sparava No no Stava sparando a me Ti diverti adesso pezzo di merda Vieni qui Dio cane Ti faccio il culo Porco dio E' morto No L'ho ferito però Devo cura Devo cura Devo cura Devo cura E' sulla collina No Era sulla collina E' scesa di garage Alla fabbrica Ma hai vestito E' aveva un cappello da cavo Sta 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 Il muro il muro il muro sta sta scavalcando Raga Non so se l'ho preso Cazzo Devo cura Non l'ho visto Sta nella fabbucchetta là dietro Pezzo di merda Dio cane Ai garage è andato Più o meno Bene Il cane lo vado a prendere Adesso Di qua ci dobbiamo andare da Oh mi sta buttando fuori Chi? Il gioco? Il gioco si Nelle volte fai in azione Ti pitto fuori Non sono solo Ci sto parlando State attenti che non rientri nel bosco eh Eh ma è peggio Ma è lì dentro Dove? Sarà nei garage La fabbricchetta nei garage Nell'officina ledici Io sono sopra l'imbalcatura eh Nell'officina ledici leba pezzo di merda questo se si salva risulta fino a donar mi vedete a me sull'imbalcatura? si l'ho visto ok provo ad andare sul tetto del palazzo ma qua è pieno la mia zona dove si fa lo scuolo è pieno è pieno è una groviera oh c'è uno zombie che mi sta piccando e muore io sono la tua sinistra si 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 ti vedo no no dicevo ora non ti vedo più però non sapete che fine ha fatto no? no l'ho perso completamente ma non è che l'abbiamo beccato ed è morto dal muro di cibo ma sai che io l'ultimo volta che ho sparato mi ha mosso la visuale ma non ti può cadere dietro al muro però boh io sto scendendo ma ci vado io a vedere ma come facciamo a un zombie ad essere sopra? eh la fabbrica con la ciminiera no? si il problema è che c'era avanti un palazzo pure sto andando dal lato dove l'ho visto ok ti ho visto passare sto io che sto scavattando no il cadavere non c'è io sono dietro il garage mi avvicino la fabbrica ed? sono qui vicino a te dietro al muro che potrebbe essere ovunque chi era che correva giù dalla chiesa? dalla chiesa no dalla strada della chiesa ho visto uno scendere giù che cazzo c'è vicino a me? io sono dove vedo? dove vedo? non so dove sei dove sei? shhh che che scava? ah scelta siti siti ragazzi siti garage che è vicino a me ragazzi è vicino a me garage vedo uno è vicino a me bravo si si è lui era lui era lui ai garage vero? l'ho visto passare sì l'ho visto passare adesso dal tetto mauro ma tu dove sei? sul tetto raga io sono sul tetto ma sei sceso tu quindi dalla chiesa no no io ero sul tetto c'era uno che scendeva dalla strada della chiesa eh non è sarà stato un altro eh quello che ti posso assicurare è che questo l'ho visto adesso te lo stavo per dire ti ho detto guarda che è nei garage mi vedi a me mi vedi a me no c'è un albero davanti ma l'ho visto passare perché ha fatto il giro del garage che arma ha? aveva un'arma automatica boh non ci ho fatto caso c'è un SK e un BK mi vedi tu vicino ai garage hai rotto a me no ah ora si ho visto uno che correva così guarda guarda qua così non ti vedo l'ho visto proprio con la cosa dell'occhio non ti vedo non ti vedo c'è un radiatore dove hai visto dove ti ha sparato quello? ah ok ok ho visto uno che faceva sta strada così guarda guardami guardami l'ho visto che girava così così e io l'ho visto che proprio passava la luce era lui? era lui? no non era lui perché due secondi dopo è sbocato lì allora era un altro sta merda senti come si sparano Neil? dimmi sei tu? mi sta facendo la spesa salta come sei? no no siamo incinocchiati vicino ai garage c'è uno sotto il palazzo sotto il palazzo? sotto il palazzo? c'è lo stesso zaino di Neil per questo non gli ho scoperto dove? sotto il palazzo dove sei tu vicino all'albero di Natale albero di Natale albero di Natale che c'è l'albero di Natale? mi sta salutando dove c'è l'albero di Natale? alla tenda la tenda militare ok 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 occhio chi è? ok chi è che ha sparato? è io addio eh l'ho ammazzato mi hai detto vicino alla tenda ne vedo un altro ah no non zombie non zombie coprimi Mauro vediamo se c'è roba una lattina dei proiettili 22 e basta ok è una pistola 380 ok era lui allora quello che ho visto passare ok allora io me ne vado in questo palazzo se riesco ad aver visuale sulla eh sì ce l'ho minchia il virus mi sono preso io qua sono scopertissimo no aspetta ti do le vitamine quando mi dirò so devo capire qual è l'acqua però quella infetta eh per cioè l'aloe fontana bene o male sono tutte buone però se trovi una bottiglia per terra ti conviene usare le pastevi beh troviamoci da qualche parte sì riscendiamo dai portiamo gli M16 dove? ah tu stai ancora con gli M16 eh no l'ho lasciato di acerno su un albero ok ma dai continuiamo un po' che ci stanno divertendo ah tu stai ancora con gli M16